wow che giornata emozionante d'accordo è il tuo turno luna uffa detesto il turno di notte dormono tutti quanti è davvero noioso infortunata luna perché stasera abbiamo uno spettacolo divertente per te lo spettacolo del turno di notte è presentato da me unikitti via con la musica balcon complimenti ottima in grazie principessa non ho idea di come si suoni questo spettacolo è per te si potrebbe dire che è una cosa dell'altro mondo ti tengo d'occhio luna è il mio nuovo programma preferito grazie grazie che pubblico fantastico ora vi mostro il mio compresentatore è arguto è dolce è piuttosto sveglio è cucciolino aspetta sto guardando un programma divertente questo sciocco pensa di guardare la tv ma in realtà in tv c'è lui guarda se stesso lo capisci che è quello che è pollo ehi mi sta imitando non imitarmi smettila ehi fratellino come chiami finti spaghetti impastori capita oh sì l'ho capita l'ho capita non l'ho capita falcondrillo su vai con la musica cosa vuoi che suoni quello che ti viene in mente ricevuto fantastico fantastico penso che meriti un bell'applauso promemoria inventare battute migliori ignoratelo come si spegne questo azzeggio applausi ehi è meglio che ridiate avete sentito ho detto di ridere ma che bel gruppo principessa cosa state facendo uno spettacolo per la luna così non si annoia certo è ovvio abbassate la voce per favore va bene rick tra poco il nostro stagista brock vedrà cosa succede di notte a unilandia in uno speciale chiamato strade di notte con brock falcon vai con il rock per il nostro brock il rock per brock strade di notte strade di notte strade di notte con brock cioè con me sono in giro per strada per vedere che succede di notte mi serve qualcuno da intervistare ma sembra che dormano tutti per fortuna però unikitti mi ha dato le chiavi del regno strade di notte ehi sono io brock ti va un'intervista me ne vado strade di notte ehi la è strade di notte con brock come va sto dormendo non vedi vattene scusa 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 ok sono in oro strade di notte andate via perché sono tutti così rumorosi stasera uffa devo trovare una persona da intervistare o il mio tirocinio sarà inutile o grande è l'omino del sonno il tizio che fa addormentare la gente coraggio andiamo a intervistarlo strade di notte come sei entrato qui sabbia magica ok allora che cosa c'è nella formula della tua sabbia magica non sto rubando niente sabbia magica a te la linea unikitti strade di notte di notte